Saluto mondo, siamo Anonymous. Si sono autolegitimati grazie alla falsa informazione, media giornali a loro asserviti, raccontano una miliade di bizzogne in modo da creare un consenso nei confronti degli impostori da parte della popolazione più labile, quelli che non hanno modo di accedere all'informazione libera della rete, sono vittime dei mezzi di formazione di propaganda. Il peggiore nemico della democrazia è l'informazione menzaniera, e i giornalisti peggiori sono quelli che per raggiungere i propri scopi non solo mentono, ma incitano all'odio. Spaventati da una vera democrazia additano i propri avversari gettando odio sugli essi. Stando a vecchi concetti, i mezzi di formazione sono meri strumenti di propaganda finalizzati a mantenere il potere impostori che altrimenti non sarebbero recitimati a comandare, ora tuttavia con l'avvento di internet molti sono coloro che hanno accesso all'informazione libera della rete, parliamo di una miliade di fonti indipendenti non osservite a nessuno, che operano solo per amore della verità e non per un torno a conto economico. Sta per crollare l'informazione asservita, e con essi ai loro padroni, con internet la verità sta divenendo difficile da manipolare, e questo è lo spauracchio degli impostori della politica. Esortiamo tutti coloro che hanno a cuore la democrazia a difenderla, dobbiamo ambientare a distruggere il portatore d'odio, i sacerdoti dell'informazione asservita al potere, sono l'unica forma esistente per legipimare la vittatura, costoro vanno e fissati, così facendo crolleranno anche gli impostori arroccatisi nella stanza dei bottoni. Distruggete questo messaggio. Ho il più soave disprezzo per tutti coloro che prendono grillo, diciamo così, sul serio.